Un omaggio a ciascuno, uno per uno, nome per nome, a chi ha capito e a chi no, a chi è rimasto e a chi non c'è più, a chi ha combattuto in prima fila e a chi ha lottato in trincea, agli eroi di questa guerra, noi, gente comune, che ha trovato sempre il coraggio, pur essendo a volte fragile. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS